Ogni giorno prepariamo a mano con cura e passione le nostre specialità per offrirti sempre il sapore originale della cucina genovese e italiana. Focaccia ti accoglie dalle 6 del mattino alle 22 e 30 perché ci piace far parte dei tuoi momenti speciali. Vogliamo darti energia con i nostri caffè intensi, stuzzicarti con tutti gli svariati gustosissimi tipi di focacce, soddisfarti con i piatti trelibrati che cambiano ogni giorno, rigenerarti con i nostri frullati, i cocktail spettacolari e i pini speciali. Focaccia 100% Italia Cooking Largo San Giuseppe 2 Genova